Mi ricordo una bambina bella, piccolina, tutta indirizzita, pensa un po', va da Cietta che non aveva manco occhi per piangere perché Cietta era ipovedente, quello che teneva lo teneva perché lo pigliava a casa mia, se no manco quello teneva. Un giorno, mi ricordo che io ero piccolina, allora bussa la porta e lei tutta tremolante, un po' balbuzziente, prese proprio il fiato per poter parlare e disse Cietta piace, ha detto ma ti nel buco di conserva. Il concentrato che era poi adesso profumatissimo, adesso me lo ricordo ancora, era profumato e Cietta dava un cucchiaio di salsa, poi ritornava, Cietta piace, ha detto ma ti nel buco di sogno, dopodiché si calmava e non ritornava più. Se tu muovi un po' tutti gli ingredienti, faceva un sugo, noi diremmo scende-scende, insomma, lento-lento per poter far mangiare i bambini. Presentato il 20 gennaio 2019 al Circolo Unione, il libro di Lella Schiavone, La mia strada, sottotitolato di donne, di fame, di amori e di filuzzo che raccontava storie di cavalli, ha riscosso un grande successo. A distanza di poco più di un mese, le 300 copie stampate si sono ridotte a poco meno di una ventina. I proventi sono stati donati alla cooperativa Paidos che si occupa del recupero dei ragazzi in situazione di disagio. Il libro è stato ritirato da tante persone che nel leggerlo lo hanno divorato, compreso noi. Perché? Ce lo dice la stessa Lella Schiavone. Molte si sono riconosciute perché il libro è, sì, di Via Vitagliani, perché io sono nata nella Via Vitagliani, però in effetti si adatta alle donne di Piazza Lecce, alle Zunacare, alle Murare, alle San Giacomine, alle San Giovannare, alle San Pattiane. Di fatti proprio una signora mi ha incontrato e dice ma signora siete sicuri di aver parlato di Via Vitagliani? Non avete parlato di Via Zunica? perché i nomi di quelle persone si ripetevano in tutte le zone di Lucera e la condizione era uguale per tutti. Il libro in pratica ha colto nel segno della appartenenza e dell'identità di una generazione che ha vissuto gli stenti e i sacrifici di una vita grama, difficile, fatta di miseria, di fatica, ma anche di felicità che oggi possiamo solo sognare. Un tempo in cui molti non avevano la voce, erano invisibili, invisibili a tutti fuorché al vicino più povero che stava attento ai bisogni dell'altro. L'idea di scrivere sui propri anni della fanciullezza e della prima giovinezza risalente al primo dopoguerra e agli anni 50 del secolo scorso è sorta, ci racconta la Schiavone, allorquando 15 anni fa circa, assistendo alla presentazione di un libro di ricette di una volta, una signora, appartenente ad una famiglia ricca di quel tempo, descriveva piatti fatti con avanzi di prosciutto crudo, formaggi e caciocavalli. A ciò, Lella reagì in cuor suo con stupore e anche con rabbia. E mi è venuta a mente tutta quella gente che io avevo conosciuta da bambina, che se avessero avuto, se avesse avuto quegli avanzi, avrebbero fatto una vita buona e invece hanno fatto una vita grama. Dopo aver scritto qualche brano e dopo la loro pubblicazione su Il Foglietto di Giuseppe Tringucci, è stato Mario Rucci a insistere perché lei pubblicasse questi scritti in un vero e proprio libro. Dico no, però Mario io non voglio pubblicare. Ha detto Lella questa non è roba tua, perché io in prima persona non ci sta scritto niente, l'ultimo brano è mio, proprio della mia, è una storia mia di una ragazzina che stava dalle sore di San Leonardo, ma tutte le altre sono state proprio, sono soltanto racconti di una bambina di 7, 8 anni, 9 anni che ha visto quelle cose e le ha raccontate, basta. Cioè sono stata proprio fuori dalla storia, non c'entro niente io là dentro. Tutto ciò che succedeva... Quello che succedeva, l'ho detto, l'ho riportato. Visto da una bambina. Da una bambina, sì. Io adesso non saprei manco osservare tutte quelle cose. L'ex dirigente scolastico ha voluto intitolare il libro La mia strada, non solo per ricordare il proprio indirizzo di nascita e di crescita, ma ne ha voluto fare il simbolo di un mondo, di un'epoca e di uno stile di vita che fanno parte sì dei ricordi, ma sono alla base della nostra storia e del nostro essere. Queste cose le ricordo perché io ho vissuto in mezzo alla strada. mia madre insegnava, una vecchia insegnante dal 1914 al 1961, quindi proprio di quelle vecchie vecchie vecchie, e aveva sette figli e quindi teneva un aiuto in casa, Cietta, di cui ho parlato largamente di Cietta perché noi l'abbiamo amata e lei ci ha adorato a dire la verità perché ci ha cresciuto. Poi d'estate ci stavano i Rutil e i mariti stavano sempre a letto che si riposavano, mentre le donne avevano la strada come salotto. Le case erano sempre aperte e bastava che qualcuno dovesse andare pure in piazza a comprare perché allora si andava in piazza a fare la spesa giornaliera con mezzo chilo di frutta, un chilo di verdura e si ritornava a casa, non si chiudeva mai la porta e allora si andava dalla vicina e diceva come giusto, state a tenere un po' a casa che si è aperta, ma chi voleva entrare? Che cosa mai potevano prendere? Non c'era niente. E quindi andavano a fare la spesa e ritornavano. E poi la cosa che mi ricordo bene è che loro, intanto per esempio i cicatelli, i mambricoli, le cose le facevano fuori, fuori dalla porta e la strada era lucida perché loro lavavano dentro a casa loro, poi uscivano e pulevano un paio di metri di strada davanti all'uscio e quindi le chianche erano proprio lucide. La signora che stava di fronte, la donna che stava di fronte, faceva la stessa cosa. Quindi la strada era un salotto. Nei suoi ricordi sono riaffiorate alcune caratteristiche del tempo, l'evidente stratificazione sociale che si rifletteva anche nelle abitazioni. Via Vitaliani era popolata specie da braccianti, da alcuni agricoltori, ma anche da famiglie nobili e olatifondiste, che coltivavano solo parte dei 2-3 mila ettari di terreno posseduti, contribuendo così all'immiseramento delle economie della città. C'erano tutti i palazzi intorno, il sopra diciamo, che era abitata da latifondisti. Poi c'era la parte così così, insomma, che si arrangiava con il commercio come Rosa Lavanettiero o come noi che erano imbiegati, insegnanti, eccetera. E poi c'era tutta l'umanità che stava giù. E quella che stava giù erano tutti quanti i braccianti. Andavano la notte a Piazza Gramsci, laddove poi arrivavano i caporali dei grandi latifondisti di Lucera, che tenevano 2-3 mila ettari e assumevano tu sì, tu no, tu sì, tu no. Chi non veniva scelto? Se non andava lo stesso in campagna e diventava terrazzano. Come terrazzano? In che senso? Perché andava a raccogliere le erbe di campagna, spigolava quello che si poteva spigolare. E comunque ritornava sempre con qualcosa nella bisaccia. Come e dove e perché come sia sempre, comunque riuscivano a portare qualcosa. Dovevano portare qualcosa. La povertà si fondava anche sullo sfruttamento del lavoro che colpiva pure i piccoli e le bambine in particolare. Carmelina ha lavorato per tutta la vita, per le persone che stavano al primo piano, perché cosa? Teneva sempre fame quella ragazza, sempre fame, per avere qualche cosa da mangiare. Quindi sfruttavano anche i nostri bambini. Si aggiunge il fatto che le famiglie erano veramente numerose e vivevano in una stanza o quasi. Le case erano piene, perché al minimo c'erano sei figli, se non sette, se non otto. E mi ricordo una donna, si chiamava Tarella, non so se da Salvatore o da Ingornatella, non lo so il nome esatto. E abitava nel vico San Gaetano, però nel portone di Zengarilla, che voleva per forza la figlia femmina. E ha fatto 18 figlie, tutt' mastro. E è nata la figlia femmina ed è morta appena nata. Poi meno male, non so che la Providenza l'ha aiutata, perché sono sopravvissute solo 9 persone. Altre caratteristiche. Alcuni personaggi particolari o particolarmente significativi che hanno lasciato più di un semplice ricordo. Come Fluzzo Ucavallar, che sapeva raccontare con grande fantasia le fiabe dei grandi autori internazionali. Come facesse non si sa, visto che era analfabeta. Aiutandosi, se mai, con una bella bottiglia di vino. Ogni favola la faceva durare mezza giornata. Ci teneva dal pomeriggio alle 4 fino alla sera, alle 7, alle 8, che dovevamo andare a letto. E i ragazzini erano tutti silenziosi, perché lui poi, diciamo che, la faceva ad effetto, la raccontava ad effetto, con calma, tranquilla, ci faceva vedere proprio tutti. Ecco, la fantasia che adesso manca. Noi uscivamo fuori da quella casa, con la fantasia, perché seguivamo il suo ragionamento. Quindi noi bambini, tutti con la bocca aperta a sentirlo. Ma Fluzzo aveva un'altra caratteristica. Quando la notte questi cavalli si sbizzarrevano e rischiavano anche di farsi male, chiamavano filozzo. E lui usciva con il cavalli, con le mutandone lunghe. Allora andava proprio sull'oscio, si fermava, bisbigliava. Lui non parlava, bisbigliava. E i cavalli riconoscevano la sua voce e si calmavano. Una cosa bellissima. Per questo l'ho chiamato l'uomo che parlava proprio con i cavalli. C'era anche Rosa Panettore e suo figlio Ettoruccio. Lei vedova di guerra e lui, seppure esonerato, si fece quattro anni di guerra e tre anni di prigionia, ma ritornò a casa sano e salvo. Riuscirono entrambi a portare avanti il negozio, ma con grandi sacrifici. Quel negozio ha mantenuto veramente tutta la strada, perché è stata veramente la sopravvivenza di tutti, perché nessuno teneva i soldi. E allora si andava con la libretta. Era un quaderno nero, con la copertina nera e con i frontespizi rossi. Io l'ho scritto tutto questa cosa, no? L'ho scritto tutto. E quindi si andava a credenza, diciamo. Si scriveva la data e l'importo della spesa fatta. E poi dopo tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, si andava a dare qualcosa, quello che si poteva. Non lo so, si arriva a pagare il 50%, il 60%. Però non hanno mai detto niente. Hanno sempre continuato fino a quando poi la gente si è ripresa. Ma dopo dieci, dodici, quindici, vent'anni, insomma, se non ci fosse stata Rosa e il figlio, la strada non poteva sopravvivere. No. Un altro personaggio tipico era Francesco Furnard, che infornava tra urla, bestemmie colossali sfuriate, il pane, la pizza e i dolci che le donne avevano impastato a casa, svegliandosi alle tre del mattino e che portavano al forno. A Pasqua, al momento di sfornare i pizza palum, ossia le colombe pasquali, accadeva che... E come per incanto, le donne tiravano fuori le scodelle con il bianco d'uovo e lo zucchero e facevano il naspro. Perché appena uscivano dal forno, caldi caldi, dovevano farli, perché sennò non si asciugava. Quindi è tutto là dentro, sporco. Di cose da raccontare il libro ne ha veramente molte. Vi lasciamo il gusto di leggere l'opera della Schiavone, che offre tantissimi spunti di riflessione, come la condizione femminile di quell'epoca e per riflesso di oggi. Il libro, in effetti, è un omaggio alle donne e a quelle donne che hanno lottato duramente per sopravvivere, ma che hanno vissuto pienamente, aggrappandosi con tutte se stesse al vero valore della vita. Vi lasciamo con il messaggio che l'autrice ci ha consegnato. Non ritornare indietro, perché non sarebbe manco giusto socialmente parlare, però apprezzare le cose che si hanno, non come qualcosa di dovuto per forza, perché quello che hanno adesso sono comunque frutto di questa gente qua, della gente che ha sofferto in quel periodo per fare in modo che loro avessero poi questo tipo di vita più tranquilla, ricca, con tanto superfluo, perché allora si combattiva per il necessario.